Rolex Submariner, icona di stile, prestigio e avventura. Il Rolex Submariner è un capolavoro dell'orologeria che ha affascinato appassionati di orologi e avventurieri subacquei da oltre mezzo secolo. Il Rolex Submariner fece la sua prima apparizione nel 1953, durante la prestigiosa fiera orologera, Basel World. Questo evento segnò l'inizio di un'epoca e una pietra miliare nell'orologeria, in quanto fu uno dei primi orologi al mondo a vantare una resistenza all'acqua fino a 100 metri di profondità. Questa caratteristica lo rese subito un punto di riferimento nel mondo degli orologi da immersione. La sua introduzione nel mercato dell'orologeria fu un trionfo dell'ingegneria e del design, e rappresentò una risposta alle esigenze dei subacquei professionisti che richiedevano un orologio affidabile e preciso per le loro imprese subacquee. Il design del Rolex Submariner è intramontabile e facilmente riconoscibile. La cassa in acciaio inossidabile è una dimostrazione di robustezza e resistenza alla corrosione, caratteristiche che sono essenziali per un orologio da immersione. Il quadrante è dotato di una disposizione pulita con indici e lancette luminescenti. Questi elementi rendono il quadrante altamente leggibile anche nelle condizioni di scarsa illuminazione sottomarina, una caratteristica cruciale per i subacquei professionisti che devono affrontare le profondità marine. Una delle caratteristiche più iconiche del Submariner è la lunetta girevole unidirezionale con scala graduata. Questo elemento funzionale permette ai subacquei di tenere traccia del tempo trascorso sott'acqua, un aspetto vitale per la sicurezza nelle immersioni. La ghiera può essere ruotata solo in senso antiorario, prevenendo eventuali errori di misurazione del tempo, un dettaglio che illustra l'attenzione meticolosa ai dettagli tipica di Rolex. Questo orologio rimane un simbolo di stile e prestigio, non solo tra gli amanti del mare, ma anche tra gli appassionati di orologi di tutto il mondo. È una leggenda subacquea che brilla nel mondo dell'orologeria, un simbolo di avventura, prestigio e stile senza tempo. La sua storia di innovazione e successo continua a ispirare generazioni di appassionati di orologi e avventurieri subacquei. Un Rolex Submariner è molto più di un semplice orologio, è un compagno affidabile per le sfide subacquei e un'icona di eleganza e prestigio che non conosce tempo. Il suo richiamo è universale, e il suo legame con l'avventura sottomarina è indelebile.